Di tutte le cose viste sui campi di battaglia della frontiera, il pilota è il predatore per eccellenza. Veloce e agile. Leggero, ma devastante. Perspicace. Intraprendente. E implacabile. Un pilota vede il mondo in modo diverso. Una semplice parete diventa un'opportunità. Un pilota combatte in modo diverso. Esperto in manovre diversive, anche il più grande svantaggio diventa una risorsa. Ma ciò che davvero distingue un pilota da altri soldati e macchine sul campo di battaglia è il legame con il suo Titan. Quando è collegato al Titan, può essere fermato solo da una forza superiore o da un suo simile. La frontiera è l'unica casa che abbia mai conosciuto. Per anni l'IMC ha devastato terre, rubato risorse, inquinato e distrutto pianeti, è sterminato chi cercava di resistere. Nonostante le recenti vittorie su Demetra e altri pianeti, c'è ancora molto da fare prima di sconfiggere l'IMC. Ora, come fuciliere della milizia, lui combatte per liberare la frontiera. La strada per diventare pilota è ancora ruba. Ma quando quel giorno arriverà, spera di esserne all'altezza.